Houston, mi sentite? Sono atterrato in questo momento su Marte, ecco, muovo il primo passo e è un altro grande passo per l'umanità. Dieci anni, dieci cazzo lunghi anni di figa. Una collaborazione internazionale. Due moduli spaziali, due astronauti per la prima volta su Marte. Il primo film recitato nell'antica lingua incaica Quechua. Il film più costoso mai realizzato nella storia del cinema amatoriale. Bresciano di Piero Galli. Fido di puttaccio, ma lui è a posto mio. Col bastardo di merda. Piero Galli. Chloe Dall'Oglio. Andrea García. Con la partecipazione straordinaria del Sosia di Antonio Banderas. Alvaro Aranda. E per la prima volta dopo dieci anni dall'esperienza cinematografica di Gay Holocaust, l'attore Michael Galliardo. Vaticano sul Marte. Attura. Tornata. Eorge. Tutini. Etola. ��면.